Uno dei caschi più completi e sicuri sul mercato, grazie anche alla caratteristica di essere modulabile. Andiamo a scoprirlo! Benvenuti nell'area tecnica, sono Valerio del Centro Marine Pro Worker e oggi in questo video andremo a vedere il nuovo belmetto Bolt di casa Milwaukee. Questo è il caschetto in versione nuda e cruda, perché Milwaukee l'ha ideato come piattaforma su cui poi potrete inserire e quindi mettere qualsiasi accessorio è utile al vostro lavoro. Il casco è disponibile in due versioni, versione ventilata e non. Cosa vuol dire? Entrambi sono prodotti certificati EN e quindi disponibili per quasi tutti i tipi di lavoro. L'unica differenza la fa il casco ventilato, ovvero che è disponibile anche per i lavori in alta quota. Infatti è certificato EN 12492, mentre la versione non ventilata è certificata EN 397. Come dicevo in precedenza, il casco nasce come piattaforma per metterci tutti gli accessori inerenti alle vostre esigenze e al vostro lavoro. Per esempio noi abbiamo preso la luce LED e la visiera. Questa visiera è disponibile anche in versione trasparente. Ci sono anche altri tipi di accessori, ovvero visiere più lunghe, retinate, cuffie antirumore, ma la cosa principale è che sono facilissimi da montare o da innestare. Vi faccio vedere. Basta una leggera pressione, chiudiamo e questa la visiera è montata. Stessa cosa per la luce LED. Eccola qua. Pronta per l'uso. Entrando più nel dettaglio, andiamo a vedere come è fatto il casco, ovvero i materiali. La calotta è interamente fatta in Lexan, un materiale ultra resistente agli impatti. L'interno del casco è fatto in sospensione in schiuma, che offre una totale protezione agli impatti, indipendentemente da dove avviene l'urto. È presente una fascia antisudore e una fodera corona, entrambi lavabili e sostituibili. Per quanto riguarda la regolazione del casco, le misure vanno da 52 a 68 cm. Il tutto tramite questa regolazione a cricchetto, facile, intuitiva, veloce, ma soprattutto molto precisa. Ricordo inoltre che il casco è disponibile in otto colorazioni differenti. Il Centro Marini Pro Worker offre la personalizzazione del casco per rendere più professionale la tua azienda, come inserendo direttamente il logo oppure il nome dell'operatore stesso. Per questo video è tutto. Per info e acquisto vi lascio i link utili in descrizione. Ricordo di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sulle novità. Il Centro Marini Pro Worker è sempre al servizio del professionista.